Bene, guardiamo ora alla prima lettera di Giovanni. La lettera è anonima. Le prime identificazioni dell'autore con l'Apostolo Giovanni vengono dai padri della Chiesa. Ireneo, il frammento di Muratori e Clemente di Alessandria, ad esempio, attestano che è stata scritta dall'Apostolo Giovanni. Citazioni di Policarpo, Papia e altri provano che la lettera era letta nelle Chiese già agli inizi del II secolo. Questa tradizione è confermata da prove che possiamo trovare all'interno del libro. Primo, ci sono notevoli somiglianze tra questa lettera e il quarto Vangelo, quello attribuito sempre a Giovanni, e in particolare lo stile, la grammatica e il contenuto. Questo prova che sono stati scritti dallo stesso autore. Entrambi sono stati scritti in un greco semplice e mostrano un forte dualismo tra il bene e il male, con un contrasto assoluto tra luce e tenebre, vita e morte, verità e bugie, amore, odio, credere, incredulità, In più, le descrizioni dello Spirito Santo e di Gesù come l'unigenito Figlio di Dio si trovano solo in Prima Giovanni e nel Vangelo di Giovanni. Gesù è descritto come la parola solo nel Vangelo di Giovanni e in Prima Giovanni e in Apocalisse. All'inizio della lettera troviamo poi una forte allusione all'inizio del Vangelo, in quanto contengono le stesse parole. Inizio, parola, vita e con il Padre. La lettera e il Vangelo hanno inoltre in comune altri temi e parole chiave, come ad esempio testimoniare, vita eterna, dimorare, Dio il Padre, essere nati da Dio, Dio che manda suo Figlio e credere. Abbiamo poi frasi ed espressioni simili e le troviamo, ad esempio, in Prima Giovanni, nel capitolo 1, versetto 1, uguale, simile a Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto 1. Prima Giovanni 2, 7, simile al Vangelo, capitolo 13, versetto 34. Prima Giovanni 4, versetto 6, simile al Vangelo di Giovanni, capitolo 8, versetto 47. Prima Giovanni 4, 9, simile al Vangelo di Giovanni, capitolo 3, versetto 16. E poi Prima Giovanni 5, 12, simile al Vangelo di Giovanni, nel capitolo 3, versetto 36. Secondo, parla di, questa lettera parla di testimonianza oculare, lo vediamo nei versetti dall'1 al 4 del capitolo 1, riguardo a Gesù. L'autore lo ha visto, lo ha sentito, lo ha contemplato e lo ha toccato con le proprie mani. Giovanni, Giovanni è stato discepolo di Gesù dai primissimi giorni del suo ministero. Terzo, l'uso che l'autore fa della sua autorità apostolica. Quarto, lo stile. Lo stile letterario di Giovanni è alquanto diverso da quello di Paolo. È un testimone oculare e testimonia di ciò che lui ha visto. E sa essere la verità, anziché fare la presentazione di un argomento, una presentazione logica, come fa ad esempio l'Apostolo Paolo. La sua lettera è molto pastorale e molto personale. La sua teologia si applica direttamente alla situazione dei suoi lettori. Giovanni ha pochi punti principali e li ripete diverse volte, usando una forma di parallelismo ebraico in cui la stessa idea è riaffermata con parole diverse. Ad esempio, nel capitolo 1, versetto 8, dice inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. E poi al versetto 9, sempre nel capitolo 1, perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Come abbiamo detto, l'Apostolo Giovanni è stato tra i primi discepoli di Gesù. Era il figlio di Zebedeo e fratello di Giacomo. Il Giacomo che subì il martirio sotto Erode Agrippa I. Vediamo questo in Matteo 4, nel versetto 1, e in Atti, capitolo 12, versetto 2. Giovanni era uno dei dodici apostoli e con suo fratello Giacomo e Pietro era uno dei tre più vicini a Gesù. In Galati 2, 19, Paolo dice che Giovanni, Giacomo, il fratello del Signore, e Pietro, erano le colonne della chiesa in Gerusalemme. Quando è stata scritta prima Giovanni? Secondo Policarpo, Giovanni visse a Defeso fino alla morte, che dovrebbe essere avvenuta sotto Traiano, che regnò dal 98 al 117 d.C. La maggior parte degli studiosi suggerisce una data tra l'85 e il 95, quindi, per la scrittura della lettera. Le prove che abbiamo a riguardo ci vengono dai primi scrittori cristiani, come Ireneo e Clemente di Alessandria, e per le denunce che vengono fatte nella lettera riguardo alle prime forme di gnosticismo. Probabilmente la lettera è stata scritta dopo il Vangelo. Chi sono i destinatari della lettera? Non c'è alcuna indicazione nella lettera riguardo, appunto, ai destinatari. Non ci sono né nomi di persona, né nomi di luoghi. Si tratta probabilmente di una lettera circolare diretta a gruppi cristiani in Efeso e nella provincia dell'Asia. Clemente di Alessandria afferma che Giovanni ministrò nelle varie chiese sparse in tutta la provincia di Efeso e le prime conferme dell'uso di questa lettera nelle chiese vengono proprio dalla provincia dell'Asia in cui era situata Efeso. L'autore si rivolge spesso ai suoi lettori, molto teneramente, usando termini familiari come figli, figlioli, figlioli miei, carissimi. Usa continuamente la prima persona singolare, io, e la prima persona plurale, noi, mostrando così la sua relazione intima con i suoi lettori e la sua profonda preoccupazione pastorale per loro. Scrive anche usando coraggiosamente la sua autorità apostolica. Chiamò i suoi oppositori bugiardi, affermando che sono figli del diavolo, anticristi e falsi profeti. Sa di avere l'autorità di un apostolo e non cerca in alcun modo di difendere la sua posizione come apostolo. Scrive per opporsi agli eretici, ma principalmente scrive per proteggere le congregazioni che amava. Mostra un profondo affetto per i credenti ed una severa intolleranza verso coloro che cercano di travisare, di distorcere il messaggio del Vangelo di Cristo. Per quanto riguarda la data e il luogo in cui la lettera è stata scritta, i padri della Chiesa affermano che l'Apostolo Giovanni si fosse trasferito da Israele ad Efeso durante la guerra ebraica avvenuta tra il 66 e il 70 d.C. e che vi rimase durante i suoi ultimi trent'anni di vita, da 70 più o meno al 100 d.C. ministrando nelle varie chiese di quella provincia, tranne ovviamente il tempo in cui era in esilio sull'isola di Patmos quando redasse l'Apocalisse verso il 95. L'ascesa al trono di Nerva nel 96 sembra che fece sì che Giovanni venisse liberato permettendogli di ritornare ad Efeso. Probabilmente quindi prima Giovanni fu scritta da Efeso. Ma qual è l'ambientazione storica del libro? L'atmosfera religiosa dominante in Asia era il sincretismo, una miscela di diversi credi e di pratiche diverse religiose. Tratti di religioni etniche precedenti e di credi ancestrali venivano mischiati con i più recenti culti misteriosi e con i più recenti pensieri filosofici ed il cristianesimo veniva spesso mischiato a tutto questo. I credenti inoltre si trovavano a dover confrontare le prime forme di gnosticismo, una delle eresie più pericolose dei primi due secoli della Chiesa. L'insegnamento gnostico affermava che lo spirito è interamente buono mentre la materia è interamente malvagia. Quindi il corpo dell'uomo è malvagio. Secondo, diceva che la salvezza è la fuga dal corpo, raggiunta attraverso una conoscenza speciale. Questa conoscenza era segreta e poteva essere impartita solo tramite delle cerimonie speciali. Terzo, negava che Cristo fosse veramente un uomo. Quarto, poteva portare o all'ascetismo, dal momento che il corpo era considerato malvagio, doveva essere trattato duramente, oppure poteva portare all'opposto, alla licenziosità. Dal momento che il corpo era malvagio, loro non erano responsabili dei loro peccati contro Dio. Conseguenze dell'ognosticismo, tra l'altro, erano l'orgoglio e un'assoluta mancanza di amore. I falsi dottori cercavano di ingannare e allontanare i credenti con questi insegnamenti gnostici e creando divisioni e problemi nelle Chiese. Ora, qual è l'argomento principale del libro? L'enfasi teologica principale nella lettera è il giusto credo riguardo a Cristo, chi egli è e la sua opera, quello che lui ha fatto. La dottrina giusta ha come conseguenza diretta il comportamento giusto. Il giusto credo dovrebbe essere espresso dal comportamento di una persona. Nel capitolo 2, versetto 3, Giovanni scrive Chi dice, io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Per cui credere e ubbidire diventano i due temi principali della lettera. Giovanni nella sua lettera dà tre test per determinare se una persona è un credente autentico oppure no. Non ci sono aree grigie. La risposta è sì oppure no. Sono formulati questi test per rassicurare le congregazioni confuse di Giovanni che la loro confessione di Cristo è autentica e che il loro stile di vita, attraverso l'ubbidienza e l'amore, dimostra che la loro fede è reale. Credere, ubbidire e amare gli altri, gli altri credenti, sono strettamente collegati. I falsi dottori che avevano lasciate le chiese avevano fallito in tutte e tre i test. I tre test sono, primo, il test della dottrina giusta, secondo, il test dell'ubbidienza e terzo, il test dell'amore. Il primo test è il test della dottrina giusta, ciò che si crede riguardo a Cristo. Ciò che Cristo affermava riguardo a se stesso era una sfida alla scena religiosa sincretista dell'Asia del primo secolo. La Chiesa doveva affrontare continuamente la tentazione di mischiarsi con la cultura circostante, proprio come accade anche oggi. Diluendo in questo modo le affermazioni di Gesù, Giovanni enfatizza il ruolo centrale della persona e dell'opera di Cristo, proibendo alle persone di aggiungere altri insegnamenti per rendere il cristianesimo più socialmente accettabile. I punti di fede centrale che Giovanni include sono Gesù è il figlio di Dio, versetto 3 del capitolo 1, che è venuto sulla terra nella carne, i versetti appunto dall'1 al 4 nel capitolo 1 e il versetto 2 del capitolo 4. che Gesù è il Cristo, versetto 22 del capitolo 2, che ha sofferto ed è morto per purificarci da ogni peccato. Versetto 7 del capitolo 1. È necessario distinguere la dottrina giusta dall'errore. I credenti devono provare ogni spirito, dice Giovanni, per discernere se sta portando la verità o l'errore. Questo lo vediamo nel capitolo 4, i versetti 1 e 6. Dietro ogni insegnante, ogni dottore o profeta c'è uno spirito e questo spirito può venire da Dio oppure può venire dal diavolo. La fede ha bisogno di discernimento per determinare l'origine dell'insegnamento. Il test riguarda la persona di Cristo. Fallire la prova vuol dire che l'insegnamento non è da Dio ma dal diavolo e il profeta o il dottore è falso. Per Giovanni non c'è alcuno spazio per i compromessi. Chi nega il giusto credo riguardo a Cristo è un anticristo, è un bugiardo e non ha il padre. La fede che ci salva è in Cristo. La dottrina giusta riguardo a Cristo vuol dire che una persona è nata da Dio e questo porta all'ubbidienza dell'amore e porta quindi agli altri due test. Praticare la giustizia dovrebbe essere il segno della nuova nascita. Il Vangelo dovrebbe trasformare le persone. La rinascita dovrebbe portare a vivere una vita nella giustizia e l'ubbidienza e l'amore dovrebbero esserne i frutti. Il concetto del conoscere, del sapere le cose si trova in tutto il libro. Questo perché gli ignostici dicevano Noi sappiamo, noi abbiamo conoscenza. E Giovanni risponde Noi sappiamo, noi abbiamo conoscenza e la conoscenza che abbiamo è che Cristo è venuto nella carne ed è nel riconoscere Lui, nel credere in Lui che siamo veramente salvati. Il concetto di conoscere, di sapere è ripetuto veramente tante volte. Il secondo test è quello dell'ubbidienza La parola comandamento, comandamenti è ripetuta 14 volte nella lettera di Giovanni La dottrina da sola, in pratica, non basta deve essere confermata dall'ubbidienza Chi sostiene di conoscere Dio ma non obbedisce i Suoi comandamenti è un bugiardo, dice Giovanni, capitolo 2, versetto 4 Nel versetto 1 del capitolo 2 e nei versetti dall'8 al 10 del capitolo 1 Giovanni indica che i credenti possono peccare Però, nel capitolo 3, versetti da 6 a 10 afferma che i credenti non dovrebbero persistere nel peccare e parla quindi di uno stile di vita di peccato La vita di un credente non dovrebbe più essere segnata dall'abitudine a peccare dal condurre uno stile di vita di peccato e questo dovrebbe dimostrare un forte contrasto con la vita di un non credente Giovanni non dice che un credente non peccherà mai più ma che non dovrebbe avere l'abitudine di persistere nel peccato Le nostre vite dovrebbero essere segnate invece dall'abitudine all'ubbidienza Giovanni non sta insegnando il perfezionismo Il peccato è semplicemente il segno dei figli del diavolo mentre l'ubbidienza è il segno dei figli di Dio Il terzo test è quello dell'amore Le prove dell'ubbidienza e dell'amore sono strettamente collegate l'una all'altra Infatti nel capitolo 5 versetto 2 Giovanni scrive Da questo sappiamo che amiamo i figli di Dio quando abbiamo Dio e osserviamo i suoi comandamenti L'amore per gli altri credenti non è un amore sentimentale ma ha le proprie radici nell'amore di Dio che ha mandato suo figlio affinché adesse la sua vita a coloro che credono E questo lo leggiamo nel capitolo 4 i versetti dall'8 al 10 Perché Giovanni ha scritto la prima lettera? Anziché attaccare direttamente i suoi oppositori Giovanni schrisse la sua lettera indirizzandola ai credenti suoi amati figli come protezione pastorale per metterli in guardia riguardo ai falsi dottori Il suo scopo era di insegnare loro la verità evidenziando gli errori da evitare La vera comunione poteva esistere solo quando la confessione di fede in Cristo era autentica Dove c'è un insegnamento falso riguardo a Cristo non può esserci vera comunione né con Dio né tra i credenti Giovanni rifiuta ogni compromesso con qualsiasi falsa dottrina riguardo alla persona e all'opera di Cristo Giovanni fa allusione ai suoi oppositori diverse volte in questa lettera Scrive che avevano fatto parte della comunità cristiana ma ne erano usciti Li definisce anticristi coloro che insegnano false dottrine riguardo a Cristo e in particolare che negano che Gesù sia il Cristo e che Cristo il figlio di Dio sia venuto nella carne Inoltre queste persone affermavano che il peccato non fosse una cosa seria Nonostante avessero lasciato le chiese continuavano a cercare di influenzarle affermando di avere una forma di cristianesimo superiore e questo stava causando insicurezza e confusione tra i credenti che avevano bisogno di essere rassicurati dal loro pastore e dal loro patrio spirituale Giovanni quindi scrive loro per riportarli al messaggio che avevano udito sin dall'inizio il messaggio originale del Vangelo che era stato predicato loro dagli Apostoli Giovanni ama il suo messaggio e ama le sue pecore È un Apostolo di Cristo chiamato ad amare il suo greggio a prendersi cura di loro ad esortarli e ad assicurarli della loro salvezza mentre al tempo stesso contrasta ogni falso insegnamento e condanna coloro che lo insegnano I tre test che propone possono essere usati sia per identificare i falsi dottori che dichiaravano di essere credenti sia per assicurare i veri credenti della loro salvezza e incoraggiarli nella loro comunione con Dio e con gli altri credenti I test quindi danno la sicurezza della salvezza dimostrano la comunione e danno degli standard per riconoscere se un insegnamento è da parte di Dio oppure da parte di un servo di Satana Per quanto riguarda la struttura Giovanni è uno dei libri di cui è più difficile identificare la struttura non presenta i suoi temi uno alla volta sviluppandoli e arrivando alla conclusione né discute un argomento come fa l'Apostolo Paolo La maggior parte delle persone hanno suddiviso questa lettera in due o in tre sezioni principali più un prologo dal versetto 1 al versetto 4 del capitolo 1 e un epilogo dal versetto 13 al versetto 21 del capitolo 5 Primo Se si suddivide in due parti questa lettera mostra una struttura simile a quella del Vangelo di Giovanni La prima parte dal versetto 5 del capitolo 1 al versetto 10 del capitolo 3 è centrata su Dio e luce mentre la seconda parte dal versetto 11 del capitolo 3 al versetto 12 del capitolo 5 è centrata sull'affermazione che Dio è amore Ogni sezione inizia con questo è il messaggio Alcuni hanno fatto una divisione però al termine del capitolo 2 Se invece si suddivide la lettera in tre sezioni c'è un'enfasi maggiore sui falsi insegnanti e le tre parti sarebbero Dal versetto 5 del capitolo 1 al versetto 17 del capitolo 2 avere una comunione con Dio significa camminare nella luce Dal versetto 18 del capitolo 2 al versetto 24 del capitolo 3 avvertimenti riguardo ai falsi dottori Dal versetto 1 del capitolo 4 al versetto 12 del capitolo 5 separazione da quelli del mondo ma guardiamo ora più da vicino alla lettera abbiamo detto che i versetti dall'1 al 4 del capitolo 1 sono il prologo Giovanni esordisce parlando al plurale e affermando di annunciare ai lettori quello che hanno visto sentito contemplato e toccato personalmente della parola di vita cioè Cristo in modo che possano avere comunione con loro e con il padre e il figlio Gesù Cristo Dal versetto 5 fino al versetto 6 del capitolo 2 continua poi con la dichiarazione fondamentale che Dio è luce e aggiunge che in Lui non c'è alcuna tenebra La luce è simbolo di giustizia di rettitudine mentre le tenebre rappresentano il peccato Dio è solo luce e sulla base di questa verità universalmente accettata afferma che coloro che camminano nella luce possono avere comunione con Dio ed essere purificati dai peccati per mezzo del sangue di Cristo Chi nega di essere un peccatore e di avere bisogno di essere purificato dal sangue di Cristo inganna se stesso non ha la verità e fa Dio bugiardo Chi confessa i propri peccati può essere sicuro di ricevere il perdono da parte di un Dio che è fedele e giusto perché se pecchiamo abbiamo un avvocato presso il Padre Gesù Cristo il giusto che afferma di avere la vera conoscenza di Dio ma non obbedisce i Suoi comandamenti è un bugiardo dai versetti 7 al versetto 17 Giovanni scrive che l'atteggiamento nei confronti degli altri mostra se si sta veramente camminando nella luce perché se non si obbedisce al comandamento che si è ricevuto sin dal principio di amarsi gli uni gli altri e si odi il fratello allora vuol dire che si sta ancora camminando nelle tenebre e non si sa dove si sta andando perché l'odio rende ciechi chi ama invece è nella luce e non c'è nulla che possa farlo inciampare nei versetti dal 18 al 27 Giovanni ribadisce che sono negli ultimi tempi e un segno di questo è proprio il sorgere dei falsi dottori persone che prima erano nella chiesa ma ne sono uscite e il cui insegnamento nega che Gesù è il Cristo il figlio di Dio e di conseguenza nega anche il padre questi falsi dottori affermano di avere una conoscenza speciale di essere sicuri ma Giovanni rassicura i suoi lettori che grazie all'unzione ricevuta da Dio tutti i credenti hanno la vera conoscenza nei versetti dal 28 del capitolo 2 al versetto 3 del terzo capitolo Giovanni esorta a restare in Cristo il giusto sapendo che solo chi come lui pratica la giustizia è nato da Dio questo porta veramente al pensiero del grande privilegio che i credenti hanno di essere figli di Dio e dal privilegio ancora più grande che quando Cristo ritornerà diventeranno del tutto simili a lui tutto questo è uno stimolo potente a vivere una vita santa e a purificarsi come egli è puro versetti dal 4 al 10 del capitolo 3 Giovanni Giovanni dice qual è allora il carattere dei figli di Dio in contrasto con quello dei figli del diavolo dal momento che Cristo è venuto per togliere il peccato ne consegue che i figli di Dio non persistono nel peccare non possono persistere nel peccato perché sono nati da Dio mentre i figli del diavolo né fanno ciò che è giusto né hanno amore per gli altri credenti nei versetti dall'11 al 18 Giovanni dice che in effetti i credenti possono aspettarsi di essere odiati dai figli del diavolo proprio come Abele fu odiato da Caino e fu ucciso da Caino al contrario il segno distintivo del vero cristiano è l'amore un amore manifestato non solo con le parole ma attraverso proprio il sacrificarsi dare se stessi per il bene degli altri e la carità pratica chi ama è veramente salvato passa dalla morte del peccato alla vita in Cristo mentre chi non ama resta nella morte chi odia il fratello è un omicida come Caino e nessun omicida può avere in sé la vita eterna nei versetti dal 18 al 24 Giovanni dice che attraverso questi atti di amore una persona sa di essere cristiana in modo in modo che anche se la sua coscienza a volte la condanna può comunque continuare ad avere fiducia davanti al suo giudice il Dio che conosce il suo cuore che conosce il suo desiderio di amarlo e di servirlo e avendo questa fiducia può essere certo che Dio risponde alle sue preghiere perché sta facendo ciò che gli è grato sta ubbidendo al suo comandamento di credere in Cristo e di amarci gli uni gli altri oltre a questo riceverà un'ulteriore rassicurazione interiore dallo Spirito Santo lo Spirito di Dio che egli ci ha dato e che vive in noi e arriviamo al capitolo 4 nei versetti dal 1 al 6 Giovanni dice ma come può un cristiano essere sicuro di avere lo Spirito di Dio perché anche i falsi dottori affermano di avere lo Spirito e Giovanni risponde che la giusta dottrina riguardo a Cristo cioè riconoscere pubblicamente che Cristo è venuto nella carne è il segno sicuro della vera ispirazione i falsi dottori e chiunque non riconosca pubblicamente Cristo come il figlio di Dio venuto nella carne è motivato dallo Spirito dell'Anticristo che loro i credenti sapevano che doveva venire e che già era presente nel mondo nei versetti dal 7 al 12 Giovanni ritorna quindi al tema dell'amore e ripete che l'amore è la prova che una persona è nata da Dio perché come è stato dimostrato dal sacrificio di Cristo Dio è amore questa è la seconda grande dichiarazione di Giovanni sulla natura di Dio la prima Dio è luce ora Dio è amore anche se gli uomini non possono vedere Dio sanno che egli dimora in loro se manifestano l'amore versetti dal 13 del capitolo 4 al versetto 4 del capitolo 5 Giovanni riassume quali sono i motivi le basi della sicurezza cristiana avere lo spirito di Dio riconoscere pubblicamente Gesù e l'amore vero messo in pratica questi sono i segni che Dio è in noi e che ci danno sicurezza per il giorno del giudizio perché manifestiamo con il nostro comportamento il nostro stile di vita la natura e il carattere di Dio dove c'è amore non c'è posto per la paura continua Giovanni anzi l'amore perfetto caccia via la paura perché chi ha paura teme un castigo quindi chi ha paura non è perfetto nell'amore e poi continua perché noi amiamo risposta noi amiamo perché egli ci ha amati per primo nel versetto 19 proprio perché Dio ci ha amati per primo noi come conseguenza possiamo e dobbiamo amare Giovanni mette in evidenza che questo amore per Dio è inevitabilmente accompagnato dall'amore per i fratelli tutti coloro che sinceramente confessano Gesù Cristo amano Dio e i loro fratelli e non è nemmeno difficile ubbidire a questo comandamento perché per fede chi è nato da Dio può vincere le forze schierate contro di loro dal versetto 5 al versetto 12 del capitolo 5 Giovanni torna al tema della fede la vera fede cristiana è centrata su Gesù Cristo che non solo si è sottomesso all'acqua del battesimo ma anche sparso il suo sangue sulla croce e al quale lo spirito rende testimonianza come leggiamo anche in Giovanni 15 al versetto 26 e dice Giovanni questi tre lo spirito l'acqua e il sangue sono la testimonianza sicura da parte di Dio che conferma la fede in Cristo non credere a questa testimonianza vuol dire fare Dio bugiardo e rifiutare la vita eterna che egli ha dato agli uomini in suo figlio Gesù Cristo versetti dal 13 al 21 per concludere Giovanni afferma che il suo scopo nello scrivere questa nel versetto 13 troviamo la conclusione Giovanni conclude dicendo che spera di vederlo presto e con i saluti suoi e degli amici Dio vi benedica nel riportare alla verità i fratelli che si sono allontanati anche se la preghiera non è di alcuna utilità in caso di un peccato mortale scrive quindi tre grandi dichiarazioni prima i cristiani hanno potere per non peccare perché Cristo li protegge e il maligno non li può toccare la seconda essi appartengono a Dio mentre il mondo è sotto il potere del maligno e la terza sono in Gesù Cristo che ha dato loro intelligenza per poterlo conoscere e termina poi con un'ammunizione di evitare l'idolatria riassumendo brevemente quindi i tre argomenti principali possiamo dire che primo Gesù è il figlio di Dio venuto nella carne in lui c'è perdono per i peccati e la vita eterna al di fuori di Cristo c'è solo morte secondo coloro che negano questa verità sono anticristi e vogliono ingannare i credenti e terzo come riconoscere che è figlio di Dio da chi non lo è siccome Dio è amore e luce ed è giusto praticare la giustizia e l'amore deve essere il modo di vivere anche dei suoi figli se vogliono riflettere la sua natura e affermare di essere suoi figli l'amore è la caratteristica essenziale la più importante di chiunque voglia affermare di essere un discepolo di Cristo colui che per amore ha lasciato la sua gloria incomparabile e si è umiliato fino alla morte sulla croce affinché gli uomini potessero avere la vita eterna se noi amiamo veramente Dio il nostro desiderio è di piacergli per cui ubbidiamo i suoi comandamenti che possono essere riassunti in primo credi che Cristo è il figlio di Dio venuto nella carne secondo ame Signore Dio tuo con tutto te stesso e il prossimo tuo come te stesso chi li nega Cristo e chi non vive nell'amore e nella giustizia non ha nulla a che fare con Dio perché Dio è luce e Dio è amore guardiamo ora alla seconda e alla terza lettera di Giovanni seconda e terza Giovanni sono i due libri più brevi del Nuovo Testamento e venivano citati raramente agli inizi della Chiesa in entrambe le lettere l'autore si presenta come l'anziano ma non ci sono ulteriori descrizioni è stato suggerito a volte che ci fosse un anziano Giovanni a quei tempi che non era l'Apostolo Giovanni e che costui abbia scritto queste due lettere per quanto ne sappiamo comunque tutte e due le lettere sono sempre state attribuite all'Apostolo Giovanni il linguaggio di entrambe inoltre assomiglia a quello della prima lettera e del quarto Vangelo per cui si può accettare il punto di vista tradizionale secondo cui l'Apostolo Giovanni ne è l'autore per quanto riguarda la data le lettere probabilmente sono state scritte più o meno nello stesso periodo di prima Giovanni tra l'85 e il 95 dopo Cristo come suggeriscono le somiglianze tra seconda e prima Giovanni per quanto riguarda i destinatari seconda Giovanni è indirizzata alla signora eletta e ai suoi figli c'è una controversia riguardo se si tratti in effetti di una persona oppure se si è un riferimento simbolico alla chiesa in quest'ultimo caso i figli sarebbero i membri della congregazione i motivi principali a sostegno del primo punto del primo punto di vista cioè che si tratti di una persona singola sono primo che questo sia l'interpretazione più naturale secondo che il suo contenuto è alquanto esiguo per essere indirizzato ad una chiesa terzo il riferimento della casa al versetto 10 sembra più indicato a indicare l'abitazione di una singola famiglia chi sostiene che la lettera fosse indirizzata ad una chiesa afferma che l'argomento trattato è più adatto invece ad una chiesa che ad un singolo individuo e che contrariamente a terza Giovanni questa lettera manca di caratteristiche personali qual è lo scopo di seconda Giovanni durante i primi due secoli il Vangelo è stato predicato da evangelisti e insegnanti che si spostavano da un posto all'altro solitamente i credenti ospitavano questi missionari nelle proprie case e provvedevano in necessario per il loro viaggio quando poi ripartivano siccome anche insegnanti gnostici facevano uso di questa pratica Giovanni scrive per esortare ad avere discernimento nel sostenere questi insegnanti questi dottori itineranti altrimenti qualcuno avrebbe potuto contribuire involontariamente alla divulgazione di eresie anziché della verità ci sono similarità tra seconda Giovanni e prima Giovanni e queste sono il versetto 5 di seconda Giovanni con prima Giovanni 2 versetto 7 il versetto 6 di seconda Giovanni con prima Giovanni 5 versetto 3 il versetto 7 di seconda Giovanni con prima Giovanni 4 versetti dal 2 al 3 e seconda Giovanni 12 con prima Giovanni 1 versetto 4 ma guardiamo ora alla lettera nei versetti dal 1 al 3 troviamo i saluti Giovanni afferma di amare la donna e i suoi figli nella verità amore e verità sono due parole decisamente rilevanti nell'apertura di questa lettera notare che la parola amore amare appare quattro volte nei primi sei versetti e la parola verità cinque volte nei primi quattro versetti da notare anche la sequenza che io amo nella verità e poi a motivo della verità secondo Giovanni la verità porta all'amore la verità può essere conosciuta dimora nei credenti e sarà con loro per sempre la verità così descritta è inseparabile dal Signore Gesù Cristo che ha detto in Giovanni 14-16 io sono la via la verità e la vita nei versetti dal 4 al 6 vediamo i comandamenti di Dio i comandamenti di Dio sono camminare nella verità cioè condurre uno stile di vita cristiano e amarsi gli uni gli altri il versetto 6 inizia con in questo è l'amore introducendo poi quella che è secondo Giovanni la definizione del vero amore cioè vivere in ubbidienza ai comandamenti di Dio nei nostri tempi moderni l'ubbidienza ai comandamenti è spesso considerata come evidenza di uno spirito legalista cioè l'opposto di ciò che consideriamo amore ma questo contrasto è falso perché il vero amore prova piacere nel fare la volontà della persona amata e possiamo vedere questo in Giovanni nel capitolo 15 versetto 10 e prima Giovanni 5 nel versetto 3 coloro che conoscono cosa sia veramente l'amore in senso cristiano sono sempre desiderosi di ubbidire ai comandamenti di Dio i versetti dal 7 all'11 abbiamo invece degli avvertimenti Giovanni avverte che ci sono molti seduttori cioè persone che scelgono ostinatamente di insegnare eresie che negano l'incarnazione di Gesù e cercano di introdursi nelle chiese per allontanare altri dalla verità rifiutare di conoscere l'incarnazione di Gesù Cristo vuol dire cadere nell'errore peggiore e Giovanni definisce chiunque fa questo il seduttore e l'anticristo versetto 8 avverte di fare attenzione a non seguire questi seduttori perché altrimenti avrebbero perso la ricompensa che escludere Cristo voleva dire escludere Dio stesso nei versetti dal 10 all'11 Giovanni comanda di non ricevere in casa Giovanni comanda di non ricevere in casa tali persone e di non salutarle nemmeno perché farlo sarebbe stato come partecipare alle loro opere malvagie nei versetti dal 12 al 13 troviamo la conclusione dopo aver scritto ciò che considerava più importante e urgente Giovanni pensa sia meglio concludere la lettera e lasciare il resto per quando avrà l'opportunità di incontrarli personalmente e potranno gioire insieme guardiamo ora a Terza Giovanni Terza Giovanni è stata scritta e stata indirizzata al carissimo Gaio Gaio era un nome piuttosto comune ai tempi non si sa nulla di lui ma dalla lettera sembra che avesse una posizione importante nella chiesa pur non ricoprendo una carica ecclesiastica qual è lo scopo della lettera gli insegnanti itineranti mandati da Giovanni erano stati respinti in una delle chiese della provincia dell'Asia da un leader dittatoriale di Otrefe che addirittura scomunicava i membri che mostravano ospitalità ai messaggeri di Giovanni egli scrive questa lettera per lodare Gaio per la sua fedeltà e avvertirlo riguardo di Otrefe e incoraggiarlo a continuare a fare il bene ma diamo un'occhiata alla lettera i versetti 1 e 2 abbiamo i saluti come in seconda Giovanni anche qui l'autore si identifica semplicemente come l'anziano si rivolge a Gaio chiamandolo carissimo questa parola è ripetuta quattro volte nella lettera e poi Giovanni continua dicendo che io amo nella verità chiaramente Giovanni nutriva un profondo affetto per Gaio è importante notare anche che la parola verità appare in questa lettera sei volte probabilmente come nelle altre lettere è riferita alla verità che è in Cristo versetti da 3 all'8 troviamo l'approvazione da parte di Giovanni di Gaio come era uso nelle lettere greche del primo secolo dopo Cristo che iniziavano con una breve preghiera Giovanni prega che Gaio possa prosperare e godere di buona salute in ogni area della sua vita esprime quindi la sua gioia per aver saputo della fedeltà di Gaio alla verità e del suo amore e di come la sua gioia più grande sia proprio quella di vedere che i suoi figli cioè coloro che si sono convertiti e che sono cresciuti tramite il suo ministero vivono secondo la verità del Vangelo Giovanni loda poi Gaio per l'ospitalità da lui data ai fratelli esortandolo a dare ospitalità a coloro che si adoperano per la diffusione della verità cioè del Vangelo di Cristo nei versetti dal 9 al 10 Giovanni avverte Gaio di come Diotrefe avesse respinto una lettera di Giovanni alla chiesa e i fratelli da lui mandati Diotrefe era probabilmente in una posizione di autorità nella chiesa ma era anche ambizioso e voleva arrivare ad avere il primato respingeva quindi l'autorità di Giovanni e cercava di eliminare la sua influenza sulla congregazione con la maldicenza e allontanando anche coloro che gli erano fedeli afferma quindi di avere intenzione di visitare personalmente la chiesa e di esporre pubblicamente l'operato malvagio di Diotrefe nei versetti 11 e 12 Giovanni esorta Gaio a fare il bene perché solo chi fa il bene è da Dio e fa l'esempio anche di Demetrio esprimendo la sua approvazione e quella di altri per quest'ultimo nel versetto 13 troviamo la conclusione Giovanni conclude dicendo che spera di vederlo presto e con i saluti suoi e degli amici Dio vi benedica grazie a tutti Grazie a tutti.